Sono Davide Riva di FSE Europa a Cosmobile qui a Verona, abbiamo il piacere di presentarvi quello che secondo noi in questo momento è uno dei prodotti più interessanti. Abbiamo finalmente presentato un gruppo wireless elettronico per bicicletta da strada, si chiama K-Force Wii. K-Force Wii sfrutta i vantaggi della tecnologia wireless per la trasmissione dai comandi al cambio posteriore ed agliatore e unisce questi vantaggi alla presenza di una batteria integrata nel reggisella, grazie alla quale otteniamo un'autonomia di 5.000 km. Ci siamo posti sin dall'inizio questa domanda, come facciamo a fare un Tour de France con un'unica ricarica di batteria e questa è la nostra soluzione. Ovviamente il gruppo è stato sviluppato nella sua integrità con i freni a doppio pivot con una capacità di cerchio fino a 28 mm, un deragliatore posteriore che sarà realizzato interamente in fibra di carbonio con un meccanismo estremamente preciso per il funzionamento su cassette da 11.23 fino a 11.32. La guarnitura specifica in fibra di carbonio con tecnologia Holotech ed il deragliatore che è il cuore, il cervello pensante di questo sistema che riceve gli impulsi dai comandi. Per la prima volta sul mercato offriamo due lunghezze di leva per quanto riguarda gli shifter, i comandi, per poter personalizzare l'utilizzo a livello ergonomico e dare il massimo vantaggio. Anche con i comandi, i pulsanti di attivazione sono configurabili, lo potrete fare con l'app che esiste in abbinamento al gruppo. Questa app è in grado anche di darvi informazioni molto specifiche sull'utilizzo, sulla frequenza di cambiata, sulla vita del vostro gruppo e non ultimo anche un dettagliato calcolo della batteria residua avvisandovi per tempo quando sarà il momento di fare la prossima ricarica. Questo è tutto per il K4SWE.